Questa parte, suoi oggi non vado un cazzo Grazie a tutti sui variare seguendo cose di amore scoprirete che abbiamo il quadro come noi come noi questo è il bravo scrivendo con le poste in cima al mondo e tra le stelle auto ma la mente è un po' di volete e la mano è tutto hai un po' di sentire che si aria e saltare gioio d'oggi ma coltari si è un vado con le poste in cima al mondo e tra le stelle auto ma la mente è un po' di volete e la mano è capitato di sentire con un cha e saltare gioio d'oggi ma coltari gioio d'oggi ma coltari ciao Grazie per la visione!